Gentili telespettatori, buona giornata, 80 parlamentari nei guai. Sfruttano i collaboratori con contratti ridicoli e li mandano pure a fare la spesa, la casta, quelli che dovrebbero dare l'esempio, quelli che fanno le leggi. Deputati e senatori sono i primi a non rispettare le leggi che approvano quando si trovano a vestire i panni del datore di lavoro. Vi ricordate la Laura Boldrini con le collaboratrici domestiche? Vi siete dimenticati? Io no. Bene, sono circa 80 i collaboratori parlamentari che in questa legislatura hanno segnalato irregolarità nei contratti stipulati e condotte di sfruttamento, spesso al limite del mobbing. Ci sono onorevoli donne che mandano le loro assistenti, pagate dai contribuenti, cioè dalle nostre tasse, per aiutarle nell'attività legislativa, a comprare gli assorbenti in farmacia e altre colleghe che spediscono giovani laureati al supermercato a fare la spesa, che poi vogliono anche ricevere a domicilio, con consegne a domicilio. Attendere, prego. Umiliazioni spesso subite in silenzio, per paura di non lavorare più nei palazzi della politica. C'è però chi trova il coraggio di trascinare deputati e senatori davanti al giudice del lavoro. Nell'attuale legislatura sono almeno una ventina le cause intentate dai collaboratori e i rispettivi parlamentari, per svariati tipi di prevaricazioni datoriali. I contratti stipulati quasi mai corrispondono al rapporto di lavoro sottostante. Spiega l'avvocato Fabio Santoro, legale di fiducia dell'associazione AICP, i parlamentari che legiferano contro i contratti atipici, sono primi a usare finti co-co-co, co-co-pro, o partite ive per risparmiare sul costo del lavoro, a fronte di orari rigidi e un rapporto gerarchico che andrebbe inquadrato come subordinato. Poi ci sono collaboratori che hanno scoperto di non avere un contributo versato dopo anni di lavoro ed altri non è stato pagato il trattamento di fine rapporto, la tredicesima. C'è addirittura chi si è visto negare documenti fiscali come la certificazione unica. Qualcuno è stato licenziato in maniera semi-ritorsiva, qualcun altro senza preavviso. Insomma, il Parlamento italiano sotto quest'aspetto è un far west, il cui il parlamentare spende come vuole il suo budget. Il collaboratore è la parte ovviamente più debole. Ha un contratto precario, che può essere interrotto in qualsiasi momento, senza una causale e con poco o nessun preavviso. A ciò di contro corrisponde una pressante richiesta di attenzione da parte degli onorevoli. Spesso vengono utilizzate queste persone come dei giolli tuttofare, vai a farmi la spesa, vai a pagare la bolletta, che non è questo il senso di quel lavoro. Gli assistenti diventano dei collaboratori domestici, lavorano senza turni, senza orario, anche la domenica, di notte. L'avvocato Santoro riferisce in un primo momento. Deputati e senatori hanno una reazione muscolare quando sanno di essere stati citati in giudizio e minacciano l'ex collaboratore di chiedergli un danno all'immagine. Poi però la stragrande maggioranza di loro, piuttosto che arrivare a sentenza e rischiare l'agonia mediatica in caso di condanna, preferisce arrivare a un accordo conciliativo che risarcisce integralmente l'assistente anche cifre da 20.000 euro, ma di contro l'obbliga a ricide clausole di riservatezza. Cioè io ti do 20.000 euro ma tu stai zitto, non raccontare niente ai giornali. Lo scorso luglio la Camera ha finalmente pubblicato i dati ufficiali sul numero dei collaboratori dei deputati richiesto da anni dall'associazione di categoria. In totale sono 488 gli assistenti contrattualizzati, solo il 24% di loro ha un contratto subordinato, il 40% circa un rapporto di collaborazione e il rastante 36% inquadrato come autonomo. Il Senato non hanno ancora fatto un censimento ma saremo giù di lì con quei numeri. Ebbè, una vera e propria anomalia in Europa. Hanno un importo mensile, una sorta di stipendio i parlamentari italiani da dare a qualcuno. Ad esempio in Francia il deputato può scegliere se conferire un apposito mandato all'amministrazione o personalmente provvedere. In Germania e al Parlamento europeo la gestione dei collaboratori è effettuata direttamente dall'amministrazione. In Gran Bretagna gestita dall'autorità parlamentare indipendente. In Italia invece non è previsto uno stanziamento specifico. I deputati oltre all'indennità parlamentare di 5.246 euro, la diaria 3.305 euro netti al mese, i rimborsi per le spese di viaggio e quelle telefoniche si vedono accreditare sul proprio conto un rimborso per l'esercizio del mandato pari a 3.690 euro. Il 50% di questa somma, se spesa, deve essere rendicontata ed è destinata appunto ai compensi dei collaboratori, ma anche a consulenze, ricerche, gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche, di consultazione dati, convegni e sostegno delle attività politiche. Il restante 50% viene invece corrisposto al deputato in modo forfettario, ossia senza necessità di mettere e mettere dei giustificativi. E poi ci sono i senatori che hanno rapporti di lavoro con altre persone di durata non inferiore sei mesi, consegnando al servizio di questura e del cerimoniale copia del contratto. Con una delibera fatta a suo tempo era stata definita una prestazione minima di 25 ore mensili per gli assistenti parlamentari pari a 375 euro. Quindi, considerando una media di 40 ore alla settimana, il compenso mensile dovrebbe essere di circa 2.400 euro. Ma qualcuno dice, io ho visto tanti contratti da 5-600 euro al mese. Nel migliore dei casi, e sono casi isolati, i collaboratori vengono pagati 1.000-1.200 euro netti mensili. Precisa l'avvocato giuslavorista Santoro. C'è persino chi ha lavorato in nero o chi con la promessa di un futuro inquadramento ha girato il sistema dei controlli all'ingresso della Camera o del Senato con inviti quotidiani e poi dopo qualche mese si guadagnava sul campo uno stage a titolo gratuito. La pretesa retributiva viene vista come un orpello dai parlamentari che spesso ritengono sia già un riconoscimento frequentare gli uffici delle loro segreterie. Come dire, già è tanto che tu mi puoi incontrare e lavori per me. Questo dovrebbe essere già la tua gratifica economica e già il fatto di poter entrare nei palazzi del potere. Vuoi anche i soldi? Incredibile, vero? E l'altro dice, ormai sono tre legislature che sento parlare di proposte di riforma ma dal 2006 la situazione è andata addirittura peggiorando. Beh, si spera che magari il prossimo governo, magari di centro-destra, abbia una certa attenzione a questi lavoratori perché quello che vi ho raccontato è assolutamente indecente e ridicolo. Grazie e buon proseguimento di giornata.